Buonasera a tutti, benvenuti, chiedo scusa per il mio ottimo tono di voce, ma sono stato di comizi elettorali nella mia terra, in Toscana e quando si fa un po' di attività elettorale la voce può anche andare via, quindi vi chiedo scusa di questo. Riprendiamo le attività del nostro Centro Studi di Machiavelli con un argomento molto importante, caldo e anche al centro del contratto per la formazione del nuovo governo, parlare di immigrazione da un punto di vista che come fa sempre tradizionalmente il Centro Studi di Machiavelli è non quello del mainstream, dell'affrontare questi argomenti, per cui ringrazio tutti i relatori che hanno dato la disponibilità per venire oggi qui a parlare. Come sapete sono ore decisive per la formazione del nuovo governo, speriamo che riceveremo notizie in un senso o nell'altro nel giro di poche ore e questo, l'attesa per la formazione del governo è stato un motivo per cui come Centro Studi non abbiamo potuto essere attivi come avremmo voluto e come siamo stati nei precedenti e di questo ce ne scusiamo. Il problema dell'immigrazione è un problema caldissimo, in questi giorni non c'è solo spread, avete visto che tra i vari fattori esterni che sembravano mettere pressione in un senso o nell'altro nella formazione o non in formazione del governo, all'improvviso sono ripresi anche gli sbarchi e dopo un periodo relativamente calmo abbiamo scoperto che in un fine settimana o poco più 3.500 migranti sono arrivati sulle nostre coste. Il problema non c'è, il problema è ancora reale, è presente nella vita di tutti i giorni, non c'è solo il fenomeno di accoglienza, io stesso sono stato poche settimane fa a visitare un centro di prima accoglienza in provincia di Pistoia per rendermi conto di prima persona come sia la realtà dei fatti, quanti sono i tempi per discutere la domanda di asilo politico, che tipo di protezione avvengono, che tipo di trattamento ricevono. Ricordo a tutti che sono circa 212 mila, compresi i minori e le persone protette nei nostri centri di accoglienza, è un numero che per il tempo medio che ci vuole per processare la domanda di asilo politico fa sì che questo numero sia in piedi. Un costo complessivo per le casse dello Stato previsto nel 2018 di oltre 5,4 miliardi di Euro. Quindi è un problema reale, un problema assolutamente da affrontare e siamo qui oggi per cercare di analizzare il fenomeno migratorio in tutte le sue varie spaccettature, perché non è solo il fenomeno degli sbarchi, c'è tutto il problema connesso, il problema umanitario, il problema della sicurezza, il problema dell'integrazione in senso ampio. Per cui io non mi dilungo troppo e passo la parola a Dario che modera il panel di oggi, per cui augurando una proficua discussione lascio la parola a Dario. Grazie.